Io non voglio giudicare, da un punto di vista sociale, il contesto sociale, rispetto alle parole che ha pronunciato il sindaco. Io però voglio giudicare i comportamenti, le condotte di questi due criminali due bestie, perché qui non siamo di fronte a un omicidio. Due più otto, due più nove, due più. Non siamo di fronte ad un omicidio qualsiasi. Qua si è fatto di legge, si è straziato il corpo di un ragazzo di vent'anni, la cui unica colpa è quella di essere andato a passare una serata tranquilla con la propria fidanzata in una discoteca. Il corpo è stato trascinato per la piazza come trofeo da mostrare agli amici. Io credo che in questo contesto... Credo che poi i due che sono stati fermati siano andati a ballare da un'altra parte, a rallegrarsi per ciò che avevano fatto. Io credo che in questo momento più che mai serva la dimostrazione che siamo in un paese dove lo Stato esiste e quindi quando il carabiniere dice in questo momento serve una giustizia rapida, veloce e efficace. Chi ha commesso questi reati non può essere un punito, deve beccare una pena esemplare come sanzione ovviamente personale, ma anche come dimostrazione della serietà di uno Stato che tutela la propria collettività e tutela il proprio paese. Io mi auguro che non ci siano sconti di pena, liberazioni anticipate speciali, adulti mascherati, perché non si può sul corpo di un ragazzo di 20 anni che stava vivendo tranquillamente la propria vita, la ricostruzione dei fatti è agghiacciante. E' non accettabile.